può sembrare strano ma io sto prodotto lo stavo aspettando da un pezzo bene ragazzi ciao a tutti bentornati ai nuovi del santone dello svapo oggi vi parlo della cubi 2 mesh pod di hot sig la 1 già mi era piaciuta tanto adesso andiamo a vedere da vicino questa e ci vediamo dopo per la prova di svapo e le considerazioni finali ecco voi ragazzi la scatola della cubi 2 di hot sig vediamo che è una pod con le coil a mesh qui c'è la classica foto del prodotto girando la scatola vediamo una fila di marchi e sul retro troviamo l'elenco del contenuto capacità della pod da 1,7 ml capacità della batteria 550 mAh inoltre abbiamo il codice bar scratch and check e qr code aprendo la scatola come prima cosa vediamo il manuale utente un tagliandino che ci dice di seguirli sui loro social e finalmente ragazzi vediamo il prodotto al di sotto del prodotto troviamo due scomparti che contengono rispettivamente due pod e ovviamente il caricatore con il cappuccio qui abbiamo le pod che sono sorelle delle precedenti qui invece troviamo il laccetto da collo con il relativo cappuccio cavo di ricarica usb c usb e l'altra resistenza ora vediamo da vicino la pod pod che ha drip tip integrato non removibile il tappino da andare aprire per eseguire la ricarica io ora vado a ricaricare immediatamente con il podone una volta ricaricato chiudete nuovamente il tappino tappino che si chiude meglio della volta precedente devo essere onesto quindi questa è stata assolutamente migliorata prima di montarla vi faccio vedere il corpo vedete che all'interno abbiamo i magneti due forellini per l'attivazione automatica in questo modo è correttamente assemblata e la sigaretta elettronica così composta misura 16 millimetri di diametro per 101 di lunghezza ovviamente possiamo tramite questo tasto accenderla e selezionare tre potenze differenti con cinque clic andiamo ad accendere vedete che lampeggiano le luci di colore differente invece con tre clic andiamo a selezionare la potenza luce verde 15 watt luce rossa 9 watt luce blu 12 watt il dispositivo ha ovviamente il classico cut off di 10 secondi e se svappate per più di 10 secondi l'indicatore qui lampeggia 5 volte se c'è un cortocircuito lampeggerà 3 volte e quando la luce rossa lampeggia 10 volte significa che la batteria è scarica a livello di finiture ragazzi il prodotto non ha difetti la texture è anche molto carina perché risulta molto morbido al tatto mi piace anche questo colore tra il verde scuro e il nero se vogliamo ora vi vado anche a far vedere come si monta il suo cappuccio per quelli che lo desiderano insomma vedete così potete avere il cappuccio il cappuccio è comunque ben saldo magari questo lo potete tenere anche un pochino più in giù in questa maniera esatto di modo che è totalmente aderente una volta che lo andate ad inserire ragazzi e con questo potete sceglierlo se tenerlo al collo oppure no oppure usare solo il cappuccio che comunque è una cosa che sicuramente è più igienica che tenerlo sprovvisto quindi ragazzi ora andiamo a vedere il peso del dispositivo e il dispositivo pesa appena 29 grammi caricato ultima cosa che vi devo far vedere al di sotto vediamo la scritta odsig con i marchi e la presa usbc e il prodotto obiettivamente a me piace anche il tip rigido mi fa ben pensare che si possa tenere tra i denti e continuare a svappare quindi questa potrebbe essere un'ottima pod da scrivania per chi lavora al computer e vuole svappare intanto che usa la tastiera oppure magari gioca con i videogiochi ed è una cosa che io obiettivamente sto cercando da un pezzo quindi detto questo ragazzi andiamo alla prova di svappo e alle considerazioni finali ragazzi grandissima produzione di vapore le coil funzionano da dio l'IT non è dei più percepibili però l'aroma è buono e comunque anche l'IT ragazzi obiettivamente ci sta coil a mesh da 1.2 ohm prodotto dal mio punto di vista fantastico a me già era piaciuta tanto la vecchia qui finalmente gli hanno messo l'usbc quindi basta con i cavi a dover cambiare con l'usb vecchie o l'usbc bene o male ormai stanno cambiando tutti quindi ci uniformeremo tutti quanti a questo formato anche nelle sigarette elettroniche prima o poi io penso che entro il 2021 non esisterà più l'usb la mini usb vecchia ok o se non esiste più quasi però ragazzi questo dal mio punto di vista è veramente un grandissimo prodotto vi avevo preannunciato prima perché perché si può tenere tra i denti e obiettivamente l'unica cosa che mi mancava da utilizzo giornaliero ok è proprio qualcosa da tenere tra i denti mentre lavoro al computer oppure quando gioco con le console o ho le mani impegnate questa ragazzi è fantastica ancora meglio ovviamente di quella che veniva prima di lei della kubi per il resto ragazzi c'è poco da dire sul prodotto perché la batteria ok dura quello che dura 550 miliamper ora non sono una caterva però si ricarica velocemente l'attaccate con l'usbc se avete un caricatore in macchina se avete un caricatore nella scrivania insomma non lo vedo come il prodotto all day è irreale ok però è un prodotto minuscolo che nei momenti in cui avete bisogno di svappare ma non volete impegnarvi le mani e volete stare così ok tipo schwarzenegger quando facevi film che c'era sempre il sigaro in bocca ma voi avete la sigaretta elettronica questa ragazzi è il top diventeremo tutti gli schwarzenegger delle sigarette elettroniche fondamentalmente con questa ragazzi mancava mancava sto prodotto sono onesto perché nonostante ci siano prodotti che funzionino da dio non ce n'era uno da tenere in bocca che andava da dio come quelli che vanno adesso questo è quello che fa al caso di tutte le persone che vogliono il prodotto da tenere tra i denti cioè proprio questa è la sua applicazione massima le potenze si selezionano bene tre clic le cambiate ha le sicurezze ha tutto quello che deve avere insomma io adesso lo sto usando con la potenza massima con ovviamente il mio poddino all'interno l'aroma viene fuori bene il vapore è bello vellutato anche grasso ok quindi ne fa obiettivamente molto ragazzi per il tipo di dispositivo che è ne fa una caterva obiettivamente è top per me questo prende un 10 a occhi chiusi consigliato a tutte le persone che hanno bisogno di qualcosa da svappare da tenere tra i denti mentre stanno lavorando io ragazzi vi ringrazio non ho assolutamente altro raggiungere 10 pieno a cubi 2 con l'ultima svappata vi saluto ah l'automatismo funziona da dio e volendo l'attivate anche col pulsante quindi veramente top ragazzi e che lo svappo sia con voi ciao a tutti